benvenuti ragazzuoli qui è dal can che parla allora nel negozio in questo momento c'è il preacquista vi faccio vedere una cosa bellissima perché da quando ora sappiamo appunto uscita dell'8 ottobre 2024 di vessel of hatred che vi ho fatto vedere nell'altro video dove avete visto chiaramente tutti i dettagli di quello che arriverà quindi andatelo a vedere perché è importantissimo andiamo a vedere cosa c'è nel negozio perché finalmente possiamo vedere per bene tutte le nostre ricompense che appunto potremo avere preacquistando ora vessel of hatred disponibile dall'8 ottobre 2024 clicchiamo qui e incominciamo a vedere il tutto qui abbiamo le informazioni dell'espansione acquistabile ovviamente ci sono le espansioni ultimate edition la deluxe la standard edition ognuna ha diverse ovviamente ricompense oltre al fatto che diversi sono i prezzi la cosa carina è che possiamo vedere anche l'espansione qua come informazioni e possiamo vedere cosa abbiamo cioè la nuova classe appunto lo spirit born scatene da bastanti poteri mistici che possono essere padroneggiati solo dei predatori migliori gli spiritisti nuova regione espandi la tua mappa anerantu ed esplora antiche civiltà mostri feroci e nuove sfide che ti aspettano nella giungla più campagna più malvagità preparati al nuovo capitolo di diablo 4 con la ricerca di nera l che ti porterà nel cuore della giungla dove ti aspettano i pericoli e piani malefici andiamo a vedere i nuovi leati recluta i nuovi mercenari che combattono al tuo fianco che crescono insieme a te e ti aiutano in battaglio con abilità uniche crescono insieme a te significa chiaramente che potranno essere buildati nuove attività pve nuove attività pve cooperative di fine gioco fai squadra per affrontare nuove spedizioni variegate che propone grandi sfide e ricompense allettanti molto molto interessante perché sapete quanto apprezzi io i contenuti dove si può giocare insieme adesso possiamo vedere con calma tutto quanto guardate che cosa carina incominciamo da qui sol cavello di nahantu clicchiamo su e possiamo vedere tutto quanto non ci sono testimonianze scritte su quanto gli spiritisti iniziarono a comunicare con l'altro regno rarità come il sol cavello fanno risalire questa pratica fino a tempi delle guerre del clan dei maghi i spiritisti sostengono che i loro modi siano antichi quanto sanctorium molto interessante a livello di lore andiamo a vedere il resto abbiamo alcor la mascotte ragazzi vi ricordo che le mascotte prenderanno sia i soldi che i materiali dio quanto è bella una creaturina curiosa alcor entrò nella capanna di un alchimista attratto da strani odori non ci vuole molto perché accettasse dei bocconcini e qualche carezza ma ancora oggi sembra avere la mente altrove assorto nei suoi pensieri vi ricordo che a quanto è stato detto su ex adesso quindi in questo momento se voi preordinate dovreste poter avere determinate cose perché c'è scritto sblocca immediatamente quindi queste cose dovremmo già poterle utilizzare in questo momento in game io probabilmente domani farò l'acquisto quindi andrò poi a verificare lo stesso ci saranno queste ali che sembravano bruttine ma in realtà adesso a vederle così sono un'altra storia perché ve lo dico perché inizialmente noi avevamo soltanto delle ali particolari che erano quelle soltanto che potevamo avere come mot ma queste invece le possiamo tenere ali della fede e tutto sommato adesso a vederle da vicino non sono per niente male quindi tanta tanta roba vfx incluso quindi praticamente si muoveranno anche molto bello andiamo a vedere adesso cosa abbiamo 3000 di platino che potranno essere sfruttati anche in game quindi vi ricordo che voi con questi 89 euro state pagando anche questi 3000 di platino che di base hanno già un valore abbastanza alto quindi non pensiate che sia una cosa buttata lì quando dice più conveniente anche se voi direste sì vabbè sono 89 euro ragazzi in realtà è conveniente in quanto vi stanno dando anche 3000 di platino ve lo ricordo a prescindere dal fatto che se vi non vi interessa una cosa ovviamente non prendetela perché è un di più non è un pay to win quindi potrete tranquillamente prendere la deluxe anzi la standard edition e non avere problemi di nulla andiamo a vedere che abbiamo anche la strada per curast beh ti ho dato la mia parola e siamo qui come promesso ma per tutto ciò che c'è di sacro non sarei mai voluto tornare in questo posto maledetto meshi allora questo è il portale cittadino semplicemente premete t entrate e uscite banalmente adesso andiamo a vedere le armature queste sono le varianti che ci sono per ogni classe quindi ovviamente se vi sta bene potete prendere anche questa e vedete voi se vi piace lo stile chiaramente però una volta che ce l'avete boh le potete anche provare non c'è nulla di strano in tutto ciò natalia questa è un'altra mascotte orfana selvaggia ritrovate tra le rovine di vecchia curast natalia aveva difficoltà a fidarsi degli altri sembra apprezzare i pasti che le vengono offerte ma insiste a voler cacciare a volte anche chi le dà da mangiare molto molto caruccia andiamo adesso a vedere questo canide robusto di cuore e duro di testa molto molto bello lui ma davvero tanto Ratli è cresciuto fin da cucciolo da un fabbro di Nantu abituato al peso di un'armatura al fragore delle spade è un ottimo compagno in battaglia anzi forse combattere gli piace un po' troppo chissà potrà anche combattere non credo in realtà non credo che verrà in nostro soccorso in questo senso però sicuramente appunto ottemperà al suo lavoro che è quello di prendere sia materiali che oro ragazzi cavalcatura stiamo parlando di una cavalcatura che non sia un cavallo quindi potremo cavalcare questo felino guerriero di Nantu cavalcatura armatura cavalcatura vessel of hatred di prestigio un alleato selvaggio lo spiritista mantiene un legame con la giunga che pochi altri possono vantare il legame più evidente è quello con il giacquaro uno dei predatori più feroci di Nantu raga è stupendo guardatelo adesso in questa maniera che vi devo dire scioccante davvero scioccante è davvero molto ma molto figo tra l'altro c'è anche il trofeo che potete andare a mettere qui ora andiamo a vedere l'ultima cosa pass battaglia primum stagionale questo è semplicemente il pass battaglia primum ragazzi niente di che ora questa è la versione da 89 euro mentre la versione normale quella deluxe anzi vi offre il sol cavello poi abbiamo le due mascotte il pass battaglia ma è anche la cavalcatura mentre qui che abbiamo sempre che si sblocchi immediatamente a 40 euro quindi 39,99 la standard edition vi ricordo che è necessario sbloccare l'accesso alla cavalcatura o alla mascotte dove applicabile in gioco prima di poterla utilizzare dice dove applicabile perché probabilmente la mascotte si attiva in automatico invece la cavalcatura deve essere attivata per quanto riguarda la mascotte potrebbe non attivarsi in realtà ora che ci penso perché dicevano che la potremmo trovare a chiova lasciate quindi direttamente pettarla quindi accarezzarla potrebbe essere che si fa in questa maniera dobbiamo scoprirlo persino noi perché dobbiamo ancora acquistare il tutto per valutare la nostra scelta anche se poi probabilmente noi andremo su questa perché ragazzi io le ali le voglio assolutamente sono troppo belle su scarlettina ci stanno una meraviglia e quindi con molta probabilità andremo su questa qui vi ricordo che questa è l'espansione che uscirà l'8 ottobre vi ricordo anche che c'è scritto si sblocca immediatamente il che significa che queste cose le potrete avere sin da subito se preordinerete quindi oggi stesso preordinando vi potrete trovare in game questa roba qui molto interessante perché va ad accalappiare tantissimi giocatori per fare un preordere perché ragazzi lo sappiamo che queste cose fanno gola sono contento che non abbiano messo giorni in anticipo perché sarebbe stato un pochino brutino ad andare a inserire cose di questo genere io non le amo però ragazzi funziona così anche il mondo dei videogiochi però adesso cerchiamo di goderci tutto ciò perché abbiamo nuove notizie sappiamo come funziona e soprattutto sappiamo finalmente la data e lo spirit born che è la nuova classe che arriverà appunto su diablo 4 in vessel of hatred signori io spero di avervi delucidato anche per quanto riguarda queste edizioni e spero che vi possa essere piaciuto il video di questo genere avendo visto con calma tutto quanto e tutte le varie ricompense che ci daranno con le varie edizioni fatemi sapere qui sotto quale preordinerete se la preordinerete oppure no voglio sapere naturalmente il vostro pensiero vi ricordo che tutti i pomeriggi dalle 15 poi siamo su twitch per giocare insieme vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale appunto per non perdervi altri video come questo grazie a tutti ancora per aver seguito questo video ci vediamo al prossimo ciao ciao